credo che tu conosca un elefante gli uomini ciechi e l'elefante è un'antica parabola espressa in versi da un poeta americano narra di sei uomini dell'indostan molto portati all'apprendimento che andarono a vedere un elefante attenzione però questi uomini erano ciechi quindi il loro vedere era un vedere di osservazione di tatto ognuno dei suoi uomini tocca una parte diversa dell'elefante e poi la descrive agli altri uno tocca la zampa dell'elefante e la descrive come essere tonda ruvida come un albero un altro prende la zanna e dice che l'elefante era come una lancia il terzo afferra la coda e insiste nel dire che l'elefante è come una fune il quarto trova la proboscide e afferma che l'elefante è un grosso serpente ognuno di loro descrive qualcosa di vero e poiché la verità di ciascuno deriva da un'esperienza personale ognuno continua ad affermare che sapeva quello che sapeva la poesia si conclude con queste parole e così quegli uomini dell'indostan disputarono forte e a lungo ognuno rimanendo nella sua idea non disposti a venirsi incontro sebbene ognuno avesse in parte ragione tutti erano in torno tutti erano in torno cosa voglio dirti con questa espressione caro amico è molto diffuso all'atteggiamento di ritenere di sapere e di conoscere ogni cosa difficilmente si mette in discussione il proprio punto di vista al punto da ritenerlo verità assoluta e certa l'apostolo paolo nonostante la sua formazione culturale e religiosa seppe riconoscere che in questo mondo la luce fiocca e noi vediamo solo una parte della verità come se guardassimo in uno specchio in modo scuro ciò che riteniamo essere chiare e palese non è altro che il frutto della nostra esperienza che seppure entusiasmante e certa per noi resta incompleta e spesso forbiante ricorda degli uomini dell'Indostan tutti erano in torno grazie a tutti grazie a tutti